Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG di TVC in apertura alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza. Sette persone di nazionalità pakistana sono state arrestate con l'accusa di ricettazione e contraffazione di documenti falsi. Ancora cronaca dalle prime luci dell'alba un servizio a largo raggio di controllo dei carabinieri per le strade del rione Traiano a Napoli. Sono ancora in corso le perquisizioni, ora l'emergenza sanitaria, dati stabili nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni. Un numero verde per avere informazioni utili sulle vaccinazioni a disposizione dei cittadini e l'iniziativa promossa dall'ASRA Napoli 3 Sud in collaborazione con l'Ordine dei Medici. In chiusura siamo a Portici, nasce un polo dell'educazione per giovani con atelier laboratori e spazi interattivi. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Per delega del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si comunica che il nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli sezione antiterrorismo, ha dato esecuzione tra il capologo partenopeo, zona Borgo Sant'Antonio Abbate e Sanità e la provincia di Caltanissetta un'ordinanza di custodia cautelare in caccia remessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di sette soggetti di nazionalità pakistana gravemente iniziati dai delitti di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione fassi e ricettazione. Le attività investigative hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette e dalle conseguenti attività finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare le fiamme gialle hanno analizzato i conti di pagamento intestati a soggetti extracomunitari provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan, verificando che erano state effettuate su rispettivi conti correnti molteplici apporti di liquidità provenienti da ricariche di 345 carte di credito estere, Stati Uniti e Canada, intestate a ignari correntisti. Alle periodiche di cariche seguivano contestualmente bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all'estero, intestati a soggetti terzi di origine araba, destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno 30 documenti di identità falsi utilizzati per l'apertura di conti correnti in vari paesi europei, riportanti le foto dei soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi. Di conseguenza sono stati contestati i riati di cui è l'articolo 497 bis e 648 ed il GIP ha ritenuto di applicare la misura di custodia cautelare in carcere come richiesto dalla procura della Repubblica. Si tratta di un gruppo criminale organizzato che ha sfruttato frodi sulle carte di credito principalmente americane e carandesi attraverso sistemi di phishing per accumulare soldi versati poi su conti correnti italiani. Da qui i soldi sono stati trasferiti verso conti correnti di altri paesi europei come il Belgio, l'Olanda e la Germania dove sono stati gestiti da altri complici e l'ipotesi che si possa trattare di finanziamento al terrorismo è attualmente al centro di una richiesta di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia per cui siamo convinti che ci saranno dei seguiti. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli stanno effettuando un servizio a largo raggio nelle strade del rione Traiano. Le operazioni sono ancora in corso e sono osservate dal nucleo carabinieri elicotteristi di Ponte Cagnano. I militari della linea territoriale insieme con quelli del reggimento Campania stanno setacciando le zone maggiormente sensibili. Nel mirino abitazioni di persone sottoposte a misure detentive ed anche scooter e automobili all'apparenza abbandonati ma possibili nascondigli per droga e armi. Sono ancora in corso le perquisizioni. Resta stabile il quadro dei contagi nei comuni del Vesuviano. Secondo l'ultimo bollettino di ieri sera a Torre del Greco sono state registrate quattro nuove guarigioni, certificati anche quattro nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 556esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 92, totale guariti dal Covid-6747, totale decessi 176. A Torre annunziata invece due nuovi casi di contagio nelle ultime 48 ore a fronte di 100 tamponi processati con l'indice di positività che si al 2%. Non si registrano guarigioni. Sono 27 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ore sono 50.845. L'incidenza di nuovi positivi a sette giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dal 4 al 10 ottobre è pari al 12,09. Sono 4.632 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.511 guarite e 94 decedute. Per quanto riguarda invece i dati della regione Campania, sono 208 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore su 17.829 test effettuati per un indice di contagio pari all'1,16%, in netta discesa rispetto al dato di ieri. 5 le vittime nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 18, in aumento di 4 unità rispetto a ieri. Quelli di degenza 177 a fronte di 3.160 liberi. 895 44 27. E questo è il numero verde per le vaccinazioni a disposizione dei cittadini. Iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Ordine dei medici di Napoli e provincia e l'ASL Napoli 3 Sud. Si forniscono riscontri acquisiti di natura strettamente medico-scientifica sulla campagna vaccinale Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'AIFA e dell'EMA. Il servizio a supporto della cittadinanza è attivo dalle 9 alle 14, da lunedì al venerdì. Per informazioni invece sui punti vaccinali è possibile chiamare al numero 081 3633169. È la vera dimensione del giuramento ippocratico, spiega il Presidente dell'Ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Napoli, Bruno Zuccarelli. Un gruppo di medici in pensione è impegnato gratuitamente a rispondere in modo puntuale da lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 a tutti i quesiti dei cittadini in merito alla vaccinazione. La collaborazione con l'ASL Napoli 3 Sud, di cui sono orgoglioso, è fondamentale. Nasce a Portici il polo dell'educazione per giovani da 0 a 6 anni. La nuova sede della scuola del Ciliegio a ridosso di Via Libertà e dell'omonima stazione della Vesuviana ospita l'asilo nido e la scuola dell'infazia, in spazi appositamente riqualificati in queste settimane. Particolare attenzione è stata prestata all'allestimento di tutti i locali, elemento essenziale nel processo di educazione e di formazione dei giovanissimi che potranno vivere moltiplici esperienze nei diversi atelier, dalla musica al digitale, dai sapori alla scienza. Sono gli spazi di esplorazione e di ricerca dedicati anche a genitori e nonni sempre accompagnati e sostenuti da educatori e insegnanti. Il Ciliegio, che opera sin dal 1994 sul territorio napoletano, propone una didattica innovativa e sempre più accogliente. Nella nuova sede, infatti, si introducono le aule aperte, un nuovo modo di intendere e di fare scuola che supera il tradizionale concetto di sezione e lezione. Inoltre, il polo dell'educazione di Portici punta su continui e proficui momenti di interazione tra i giovanissimi e tra questi e gli adulti. È nata per questo, ad esempio, la grande piazza a primo piano, luogo ideale nel quale si sperimentano momenti di crescita e confronto grazie alle esperienze con il mondo digitale e con la natura insieme agli esperti di scienze. Inedite esperienze anche nella sala da pranzo, dove le bambine e i bambini saranno i protagonisti di esperimenti e occasioni di gioco con tutti i propri sensi. In più, per rendere le lezioni sempre più interessanti e stimolanti, gli spazi sono dotati di computer, tablet, lavagne interattive e smart tv, oltre a tantissimi giochi selezionati dagli educatori esperti. Questo è veramente tutto, arrivederci a domani.